SIGLA Tutto intorno, gruppi di londinesi attoniti, immobili agli angoli delle strade, che continuano a chiedersi come è potuto accadere. Chi può avere mai fatto una cosa del genere? Ecco le testimonianze di alcuni dei sopravvessuti. La polizia, per favore. Credo che mia figlia sia scomparsa. Anche lui sta cercando suo figlio. Ali non abita più qui. Ho incontrato questo africano che ha una fotografia di lei alla moschea. I ragazzi si conoscevano. Ancora hai precisato il numero dei morti? Non so che cosa stia succedendo, stai parlando l'arabo. Ho tanta cura. Dov'è mia figlia? Non è come credere. Che cosa le ha detto? Grazie.